Sindaco, Pineto ha grande vocazione sportiva e ha anche grandi origini con il triathlon. Sì, quest'anno in particolar modo abbiamo oltre 20 grandi eventi e siamo davvero orgogliosi di questo perché c'è stata una sinergia tra società, federazioni e operatori nel cercare di caratterizzare questa primavera a partire già dal mese di aprile, riaprono le strutture turistiche e sono tutti contenti. Nello specifico stiamo parlando di triathlon, un evento che torna dopo alcuni anni con la speranza di ripartire alla grande, un evento che rispecchia diciamo totalmente quelle che sono le caratteristiche e in qualche modo anche gli obiettivi di un territorio che guarda il turismo sostenibile, la bicicletta che è al primo posto, un territorio che sta puntando molto sulle piste ciclabili, sul turismo sostenibile appunto quindi che contempla proprio il cicloturismo quindi la bici che in qualche modo si immerge nella natura quindi guarda alle tre discipline che poi sono al centro del triathlon quindi il nuoto, la corsa e appunto la bici su strada in questo caso quindi sfruttando sia la nostra pineta, il nostro mare, che è il mare dell'area marina protetta e poi le nostre colline.